Catania, professor Davide Bennato, il racconto storico di questi primi 81 anni della mostra d'arte cinematografica di Venezia. Professor Bennato. Sì, secondo me la cosa bella della mostra del cinema di Venezia è che sostanzialmente riesce a esprimere un preciso sentimento, un sentire storico e sociale fondamentalmente perché si pone al centro di due forze. La prima forza è come sta cambiando la società italiana, quindi si pone anche, usa anche il cinema per rappresentare la cultura italiana ovviamente anche in un contesto internazionale da un lato e dall'altro come sta cambiando specificamente la cultura cinematografica nella capacità di raccontare il presente e raccontare la realtà. Il primo periodo, diciamo così, il periodo più recente a noi fra gli anni 60 e gli anni 70 è quello più politico, infatti proprio negli anni 60 è il periodo dove ci sono un massimo esplodono le contraddizioni e anche le reazioni nei confronti di alcune scelte della mostra del cinema di Venezia. Per esempio la mancata vittoria di Rocco e i suoi fratelli di Lucchino Visconti che invece aveva incontrato il favore del pubblico. Però bisogna anche dire che in questo periodo nasce anche la riflessione politica di personaggi come Pasolini, Bertolucci, Bellocchio, Brass e non bisogna dimenticare che proprio nel 67 il Leone d'Oro lo vincerà anche un film una pellicola molto particolare come Bella di Giorno di Luis Buñuel quindi sicuramente c'è la componente della politica che viene proprio rappresentata in tutta la sua potenza con la battaglia di Algeri di Gilo Pontecorvo che affascinerà il pubblico della mostra del cinema di Venezia del 66. Negli anni 70 però succede qualcosa di diverso perché fondamentalmente parafrasando potremmo dire che sia l'immaginazione senza potere perché accade che per esempio nel quel decennio le manifestazioni sono non competitive cioè non c'è questa componente di premiazione e quindi di celebrazione per una scelta specificamente politica ma proprio in questo periodo però c'è un rilancio perché cominciano a nascere le premia la carriera infatti nel 71 verrà premiato John Ford nel 72 verrà premiato Charlie Chaplin da non dimenticare che proprio il 72 è l'anno in cui ci sarà verrà proiettato uno dei film più affascinanti di Stanley Kubrick che è Arancia Meccanica poi non bisogna dimenticare che proprio negli anni 70 ci sono due anni in cui non ci sarà la mostra del cinema sia il 73 che il 78 questo per capire come sono dei è un periodo piuttosto complesso è piuttosto contrapposto finché poi non arriverà nel 79 con la direzione di Carlo Lizzani anche la riflessione sul rapporto fra cinema e nuove tecnologie allora che la riflessione sul rapporto fra ficaria grazie per la maniera l'égirale grazie per la maniera grazie a tutti